Grazie, buonasera. Io sono Andrea Goltara, sono il direttore del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, che è un'associazione no profit che esiste da quasi 25 anni, siamo comunque più giovani del festival di Sherwood, e che lavora in Italia e in Europa per la sostenibilità nella gestione dei fiumi e delle acque. Credo di potermi riagganciare per cercare un filo conduttore, diciamo, della chiacchierata all'estrattivismo, all'approccio estrattivista che tu ci hai descritto nell'azione all'attività mineraria, per riportarlo a quella che è la realtà anche italiana di questo periodo. Noi veniamo da un anno, l'anno scorso, che è stato quello della grande siccità, forse la peggiore siccità degli ultimi 500 anni, addirittura in Europa, secondo i dati, in un contesto in cui le risorse idriche si stanno impoverendo sempre di più, in relazione al cambiamento climatico, alla crisi climatica, e quindi corsi d'acqua che in prospettiva avranno sempre meno acqua da fornire per gli usi umani. Qual è stata la reazione nel nostro Paese a questa crisi idrica così evidente? Sostanzialmente quasi tutta la discussione, il dibattito e le azioni del governo italiano si sono concentrate su fare nuove opere, in un approccio assolutamente estrattivista, in cui si è pensato e sostanzialmente cercato di finanziare la realizzazione di infrastrutture, in un contesto come quello italiano che sicuramente non è senza infrastrutture, quindi l'idea è che ci manca l'acqua, noi ne togliamo ancora di più dai fiumi e realizziamo più opere per trattenerla, quindi in vasi, dighe. In Italia teniamo conto che ce ne sono già più di 500 di dighe, grandi dighe, e di opere piccole, non sappiamo neanche esattamente, sono più di 20.000, quindi è un Paese pieno di infrastrutture. Ma l'idea di fondo è quella comunque che noi possiamo evitare di mettere in discussione gli usi, quindi in particolare l'uso agricolo che è quello centrale, quello che consuma più acqua in Italia e in generale nel mondo è l'uso agricolo. Quindi l'idea è quella di non mettere in discussione nulla, continuiamo a consumare sostanzialmente quello che consumiamo adesso e anzi in prospettiva sempre di più, perché nel tempo anche culture che non avevano bisogno ne hanno sempre più bisogno, realizzando opere e quindi mettendo ulteriormente in crisi un sistema come quello dei corsi d'acqua che non so quanti di voi frequentino, ma sono sistemi già estremamente sotto pressione, sia per gli usi che ne facciamo, il modo in cui li utilizziamo, quindi l'uso del territorio che si è avvicinato sempre più, gli ha costretti sempre di più, canalizzati, sia per l'estrazione d'acqua. Pensiamo che la maggior parte dei fiumi italiani oggi rimangono poi sostanzialmente senza acqua, hanno meno del 10% dell'acqua che avrebbero naturalmente, quindi già gliene togliamo più del 90% in media. E in più ogni volta che c'è qualche crisi più o meno locale ci sono deroghe, quindi invece del 10 ne lasciamo il 5. Voi pensate se vi togliessero il 95% dell'acqua che bevete quotidianamente. E poi sistemi che sono sotto pressione per milioni di barriere e sbarramenti, più di un progetto recente che ha cercato di censire gli sbarramenti lungo i corsi d'acqua, sono più di un milione ma è una sottostima, quindi ogni chilometro ce n'è più di uno in ogni corso d'acqua europeo e in Italia abbiamo pochissimi dati su questo e sono sicuramente molti di più. Nel frattempo tutta la propaganda in qualche modo della politica che cerca di raccontare che sta sostenendo il mondo agricolo dice che finanzierà sempre più infrastrutture. E un parallelo ce l'abbiamo sulle alluvioni. Allora noi stiamo saltellando ormai continuamente da siccità alluvioni e le trattiamo come se fossero due questioni completamente separate. In realtà sono molto legate tra loro e il modo in cui gestiamo una influenza poi gli effetti anche sull'altra. Quindi se da un lato la tossicità semplicemente stocchiamo acqua in superficie, dall'altra diciamo per le alluvioni cosa facciamo? Facciamo altre opere anche lì. Arrivano alluvioni sempre più grosse e noi costruiamo opere sempre più grosse. Infatti se noi guardiamo i due decreti principali che il governo approva, e dico il Parlamento fa virgolette perché il Parlamento ormai conta ben poco, ma il governo ha portato avanti quest'anno, nel giro di un mese si ha approvato un decreto a legge siccità e un altro alluvioni e entrambi sono focalizzati su che cosa? Sul costruire e finanziare il più rapidamente possibile e bypassando il più possibile tutte le normative, soprattutto quelle ambientali, nuove opere. Per quanto riguarda la partecipazione e il ruolo del pubblico, il tentativo è quello di evitare anche i pochi percorsi di partecipazione pubblica che ci sono e che sarebbero obbligatori. Nel decreto di siccità c'è un articolo che io trovo veramente preoccupante, si chiama superamento del dissenso. Come suona? Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se io sono un ente pubblico che potrebbe bloccare un'opera sul mio territorio, quindi avrebbe il potere sulla base della normativa attuale di bloccare un'opera per ragioni valide, beh se tu sei contrario e se il commissario che gestisce ormai tutto, tutto viene gestito da commissari in Italia, ci sono commissari per qualsiasi cosa perché tutto è considerato emergenza, se il commissario di governo ha deciso che quella è un'opera fondamentale e tu non sei d'accordo, beh supera il tuo dissenso e quindi metto in atto un percorso per cui, vabbè dai, lo faccio lo stesso. Questa è una cosa veramente, veramente grave. Però è il modo in cui in questo momento pensiamo di gestire i corsi d'acqua in Italia. Allora, tornando al tema della siccità, nello stesso momento sta succedendo una cosa di cui in Italia si parla pochissimo. Già da giugno scorso, mentre sui giornali tutti parlavano solo di nuove dighe, la Commissione Europea ha fatto una proposta di un nuovo regolamento che è uno dei pilastri della politica ambientale europea e visto che questa commissione ha il tema ambientale come centrale è uno dei pilastri proprio di tutta la strategia della Commissione Europea che è la Nature Restoration Law, un regolamento sul ripristino della natura che parla proprio di siccità, di alluvioni, di adattamento al cambiamento climatico, ma ci dice di fare tutto il contrario, quindi non di realizzare nuove opere, ma di rimuoverne, di restituire spazi ai fiumi, perché sia per la siccità che soprattutto per le alluvioni i fiumi hanno bisogno di più spazio, ne abbiamo tolto troppo, dobbiamo fare dei passi indietro, quindi anche rimuovere opere, eventualmente ricostruirle più lontano, fare in modo che i fiumi possano fare il loro lavoro. Se noi vogliamo stoccare acqua, un posto molto più efficace dove tenerla, non sono dei serbatoi all'aperto, dove ne perdiamo una grande quantità, ad esempio per evaporazione, dove la qualità dell'acqua peggiora, per le temperature elevate, eccetera, eccetera, ma ad esempio nel sottosuolo, e quindi ricaricare le falde, ma per farlo non possiamo togliere tutta l'acqua ai fiumi, perché l'uno del loro lavoro principale per noi è proprio quello di ricaricare le falde lungo il loro corso, e quindi lasciarli più liberi di fare questo lavoro, aiutarli facendo ricarica artificiale, fare in modo che durante le sondazioni l'acqua esca, si rallenti, riduca il rischio a valle, e allo stesso tempo stocchi acqua. Fare in modo che i sedimenti di fiumi si muovano, ad esempio, in relazione al rischio di alluvioni, noi abbiamo delle coste che sono sempre più in erosione, ma perché si erode la costa? Sì, perché il livello del mare aumenta, ci sono degli eventi sempre più forti che aumentano questo processo, ma perché mancano i sedimenti che arrivano dai fiumi, la sabbia delle spiagge, da dove arriva? Arriva dai fiumi, ma se noi la togliamo e se costruiamo sempre più sbarramenti che non la fanno arrivare fino alla costa, noi stiamo aumentando l'erosione, quindi creiamo incisioni, i fiumi sprofondano, i letti dei fiumi in Italia sono perlopiù molto più bassi di quello che erano 20, 30, 50 anni fa. Questo fa sì che le falde si abbassino e quindi che perdiamo risorsa idrica, fa sì che l'acqua salata dal mare risalga di più e qua in questa zona ce ne siamo accorti, no? Quindi io sto facendo delle opere che racconto come una soluzione per la siccità, ma che peggiorano tutta una serie di altri problemi, inclusa la siccità. Quindi c'è un racconto assolutamente parziale di come funzionano i sistemi idrici. E dall'altra parte abbiamo una norma europea che ci dice, ci suggerisce di fare tutta una serie di altre cose, quindi ad esempio stoccare l'acqua nel sottosuolo. Il suolo, quello straterello sottile sottile, no? Su cui coltiviamo, su cui viviamo, ha una capacità enorme di funzionare da spugna, di trattenere acqua, ma ha bisogno di essere sano, dobbiamo trattarlo bene. Quindi ad esempio aumentare la sostanza organica nel suolo, no? Quella cosa che si perde se noi facciamo agricoltura intensiva. Se noi aumentassimo anche solo dell'1% la quantità di carbonio organico nel suolo italiano, potremmo stoccare una quantità di acqua pari alla metà di quella che sta dentro, negli invasi di tutte le grandi dighe italiane. Quindi ogni agricoltore tra le mani ha una soluzione fortissima, potentissima, no? Per ridurre il suo rischio di rimanere senza acqua in futuro, la sua capacità di produrre cibo, eccetera. Ma nessuno gliela racconta. Nessuno gli dà gli strumenti, se non poche associazioni che cercano di farlo, ma i grandi rappresentanti del mondo agricolo questa cosa la trascurano completamente, non la raccontano. Ecco, questa normativa ad esempio ci chiede di farlo, ci chiede di fare anche tante altre cose, no? Aumentare la biodiversità nei terreni agricoli, in città, no? Piantare alberi e rimuovere opere, lasciare i fiumi più liberi di muoversi. Ecco, ve lo racconto perché sta succedendo in questo momento, c'è il dibattito in Parlamento europeo, il 12 luglio anche i nostri, i vostri rappresentanti, che forse avete eletto a Bruxelles, dovranno votare sì o no per questa norma che è veramente epocale, perché obbligherà tutti i paesi europei a fare interventi di rinaturazione, di ripristino della natura. Poi è chiaro, noi dovremmo fare in modo che lo facciano davvero, ma il primo passo è approvarla. Allora, ci sono dei grandi gruppi politici europei, come il PPE in particolare, che sta facendo di tutto per mandare a monte questa norma. Ecco, sarebbe il momento, noi con tante altre associazioni europee, stiamo facendo un grande lavoro di campagna su questo, contattando anche i parlamentari uno a uno, ma anche cercando di coinvolgere la popolazione, abbiamo raccolto un milione di firme da parte di cittadini europei in questi giorni, è il momento in cui ognuno dovrebbe cercare di rompere le scatole al proprio euro parlamentare, se sa chi è, per chiedergli con forza di votare questa norma. Ecco, lì dentro ci sono tante cose che hanno a che fare con l'approccio proprio opposto di quello estrattivista che stiamo adottando ora per gestire l'acqua in Italia. Poi, spero che ci sarà spazio per chiacchierare nel prossimo giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.